E adesso, come se non bastasse, ci manca soltanto Charlie Gnocchi che entra a gamba tesa e parla di Oriana, ma non parla bene di Oriana. Di tutte e tre in realtà, Mikol, Jaele e Oriana. Ma come tutti sanno, le tre ceffine sono state le prime a guadagnarsi il podio di questa finale e questo non ha fatto che cementare il loro rapporto e renderle più unite, che in questo periodo, insomma, in questi ultimi giorni sicuramente è una cosa più che positiva. Ma gli altri due finalisti sono usciti fuori dalla puntata di ieri e si tratta di Edoardo Tavassi e Nikita Pelison. Ma in tanti hanno notato la reazione dei vipponi e all'annuncio che la quinta finalista sarebbe stata l'influencer triestina, non troppo apprezzata, tra l'altro, all'interno della casa. Oriana Marzoli, Mikolin Corvaia e Jaele Dedonà non hanno mai legato né con Nikita Pelison né con Antonella Fiordelisi. Queste ultime due avevano invece legato particolarmente con Charlie Gnocchi che in queste ore è tornato a far parlare di sé. L'ex GFino nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha raccontato il suo punto di vista sull'esperienza fatta. Il comico, tuttavia, ha attirato l'attenzione di molti per aver preso di mira Oriana, Mikola e Jaele con un post. Proprio questa mattina Charlie Gnocchi ha voluto dedicare un post a Oriana Marzoli, Mikolin Corvaia e Jaele Dedonà. Ma non si è trattato di un gesto affettuoso nei confronti delle tre vip, tutt'altro. Il comico ha infatti pubblicato una sua vignetta che ritrae le tre ex coinquiline che con un gioco di parole ha definito vipere, come potete vedere voi stessi. Charlie Gnocchi ha aggiunto nel post. La vipera è un simpatico animale che non fa male e va in finale. Ovviamente i commenti sono piovuti. Ottimo Charlie ottimo faccina con occhi sorridenti la verità va anche illustrata sorriso con goccia di sudore. Molti, però, accusano il comico al quale non perdonano certi comportamenti avuti in casa. Dopo tutte le cessate che hai detto nei confronti di Oriana devi solo tacere viscido misogino faccina contrariata. Nei giorni scorsi Charlie Gnocchi aveva dichiarato Ho scelto di partecipare perché mi piacciono le esperienze nuove, mi piacciono le sfide. Lo considero un lavoro, una opportunità. Mi sono messo alla prova, perché è la mia prima esperienza in un reality. L'ho trovata interessante. Inoltre il comico ha affermato di essere pronto per un altro reality. L'isola dei famosi. Lo farei subito. Sarebbe un reality ancora più forte per me. Diventerei veramente quel selvaggio utile all'isola. E questo carissimi è tutto per questo video. Vi ringrazio per la visione. Vi prego di lasciare un mi piace sotto al video. Grazie.